La rete che dà agora a teatro della libera e orizzontale comunicazione che diventa micidiale strumento di manipolazione di massa, il ruolo insostituibile del lavoro del giornalista che ha abitudine di filtrare e verificare la notizia e resta un baluardo contro l'invasione delle bufale e delle improbabili false flag. Il potere che nasconde le informazioni intimidisce giornalisti con leggi bavaglio e querele temerarie. Tanti e tutti interconnessi i temi al centro del convegno su informazione e manipolazione oggi all'auditorium del Parco dell'Aquila, uno degli eventi previsti nel cartellone della non edizione dell'Aquila Film Festival che proporrà fino al 18 dicembre una rassegna dedicata al cinema d'autore con proiezioni giornaliere, convegni, dibattiti, workshop, concerti, degustazioni e molto altro. Protagonisti della prima sezione del convegno Ettore di Cesare, consigliere comunale all'Aquila, ma soprattutto una delle anime di Open Police, associazione che della trasparenza della pubblica amministrazione ne ha fatto una ragione di vita e Valeriano Salve tra i massimi esperti italiani di social media. Il mestiere del giornalista dovrebbe anche essere quello di tirare fuori storie dai dati, tirare fuori delle notizie dai dati e finché questi dati non sono a disposizione come la disparità di informazioni tra chi ha il potere e chi non ce l'ha, come dire, pregiudica lo stesso funzionamento della democrazia. Quello che possono fare a nostra insaputa su come colossi come Google, Facebook, possono veicolarci delle informazioni a loro scelta in maniera totalmente inconsapevole per gli utenti. Il fatto che raccolgono una gran mole di dati spesso per gli utenti è completamente trasparente questa cosa. Un utente non si rende conto di quanto della propria vita cede a questi colossi dell'informazione ed è un rischio insomma. Tira le somme il presidente dell'ordine dei giornalisti di Abruzzo, Stefano Pallotta. I giornalisti stanno lì a fare i cani da guardia nei confronti dell'opinione pubblica per disvelare queste cose. Scaricare sull'informazione questi elementi di contraddizione significa fare un danno alla democrazia. La legge Bavaglio sicuramente è un elemento che danneggerebbe in maniera fondamentale il diritto di critica.